Ciao a tutti, siamo a giugno, per molti di voi significa che la scuola è finita o sta finendo, non so bene, mi direte qua sotto. Fatto sta che siamo a metà anno e quindi esattamente come l'anno scorso, io attraverso questo book tag che è il Mid-Year Freakout Book Tag io farò, diciamo, un bilancio di come sta andando più o meno quest'anno, se sta andando bene, sta andando male a livello di lettura, diciamo che è un anno molto variegato, come sempre, e vediamo un po' di sparlare appunto delle letture che ho fatto attraverso appunto questo book tag che invito anche voi a fare, ci scambiamo consigli eccetera eccetera come al solito. Come sempre trovate le domande nell'infobox assieme a tutti i titoli che citerò, quindi se qualcosa vi intriga fatemelo sapere, fatemi sapere se l'avete acquistato, avete acquistato qualche titolo, vi è piaciuto qualcosa, avete letto qualcosa, insomma, parliamone. Ma ora veniamo veramente a noi e partiamo subito con la prima domanda che ci chiede qual è il libro migliore che tu abbia mai letto, che tu abbia letto quest'anno, finora? Assolutamente, come già ho detto anche da titolo del video, il libro più bello che ho letto quest'anno è un'uscita del Saggiatore che è Siamo vissuti qui dal giorno in cui siamo nati. Un debutto tra l'altro, quindi molto contento di parlarvene, ve ne ho parlato tantissimo ormai, di Andreas Moster, che è un traduttore tedesco che appunto si è gettato nell'impresa della scrittura di un romanzo e secondo me mostra una maturità artistica, stilistica e narrativa pazzesca. È un libro forte, ve ne ho parlato molto meglio nella recensione, quindi vi invito a vedere quella, fatto sta che è un racconto molto sconvolgente di questa comunità, questo piccolo paesino che vive ai piedi di una cava calcarea e che vive principalmente di quella. L'introduzione, come sempre il tema dello straniero che viene da un mondo diverso, porterà scompiglio, in un certo senso questo businessman che viene dalla città per controllare lo stato di questa cava e dalla sua presenza nasceranno tutti i conflitti e l'esperienza dello straniero che viene da fuori che in un certo senso porta tutti gli istinti ferini e violenti dell'essere umano, diciamo, di porta a galla in un racconto che è molto kafkiano, nel senso che è molto scuro, psicologico, a tratti anche abbastanza surreale, molto tosto e allo stesso tempo sconvolgente, sia dal punto di vista di scrittura, perché la scrittura di Monster è pazzesca, e sia dal punto di vista di contenuti. Una bellissima storia raccontata in modo geniale, secondo me, che vi invito assolutamente a leggere. Qual è il miglior sequel che hai letto finora? Non ho letto sequel, perché voi sapete che non sono un grande stimatore delle saghe, quest'anno non ne ho iniziata neanche una, quindi al momento nessuno. La novità letteraria che intendi leggere, che non hai ancora letto, tantissime, lo sapete, fatto sta che, se devo nominarne per forza una, ne nomino una che non possiedo ancora, ovvero Melancolia della Resistenza, che è un romanzo di Laszlo Krasnorkai, che è un autore ungherese, di cui molto spesso le storie hanno ispirato i film di Belatar, un regista che io adoro particolarmente, bello anche di Paco Polacco, insomma, e che Melancolia della Resistenza ha ispirato un film meraviglioso, che è Le Armonie di Werkmeister, su questo, sull'arrivo di questa stranissima balena gigante e il mistero, in un certo senso, che la cerchia, no? Sono curiosissimo di vedere le atmosfere del romanzo, perché chi conosce Belatar sa che i suoi film sono un po' un'esperienza, un certo affronto, un certo approccio con un clima cupo, legato alla morte, alla solitudine, eccetera, eccetera, è un darritmo molto contemplativo, e quindi è sempre bello vedere quando ci sono dei film così tanto visivi, tratti dai romanzi, vedere come queste sensazioni sono effettivamente descritte nel romanzo, se ce ne sono di altre, eccetera, eccetera. Laszlo Krasnorkai è, tra l'altro, l'autore anche di Satan Tango, che è il film capolavoro di Belatar, appunto anche quello tratto da un romanzo, e curiosissimo anche di leggere Melancolia della Resistenza, che se è bello quanto il film sarà meraviglioso. Poi, l'uscita che più attendi, che non è ancora uscita in sostanza, il nuovo libro di Sjöberg, infatti Iperborea ha annunciato l'arrivo di un nuovo romanzo, un nuovo libro ibrido di quest'autore svedese, che come sapete io adoro particolarmente per quanto riguarda la trilogia del collezionismo, quindi l'arte di collezionare mosche, il re dell'uvetta e l'arte della fuga. Io adoro come Sjöberg si è riuscito a costruire queste biografie di personaggi assurdi, mischiando saggistica, scienza, saggistica, saggistica scientifica, biografia e romanzo, in questi ibridi affascinanti che appassionano veramente su dei temi che a volte non interessano neanche, parlo di me ovviamente, tipo gli insetti. Lui è riuscito a farmi appassionare agli insetti attraverso l'arte di collezionare mosche, e quindi sono curiosissimo di vedere che cosa ne sarà di lui in questo libro, che si chiama Perché si resiste, in uscita quest'estate comunque. La più grande delusione? La più grande delusione è stata un saggio, un saggio a tema femminista, che avrebbe dovuto affrontare, almeno sulla carta, il tema del mansplaining, ovvero quest'idea di studio dei rapporti di potere attraverso il linguaggio. In sostanza, il mansplaining è quell'idea del femminismo secondo cui la società maschilista, in un certo senso, spinga alcuni uomini a spiegare delle cose scontate alle donne, proprio perché le interlocutrici sono donne, in sostanza, e molto spesso sono degli atteggiamenti quasi inconsapevoli. Io pensavo che questo libro di Rebecca Solnit, in un certo senso, affrontasse la materia attraverso delle spiegazioni, dei rapporti di potere attraverso il linguaggio, cosa che secondo me il testo non affronta, e quando io cerco un saggio da leggere, voglio uscirne con un approfondimento, voglio che questo libro mi insegni qualcosa, invece questa lettura è stata banalmente come non farla. Mi spiace dirlo perché è un libro che è piaciuto a tanti, a me no, cioè io ho letto molti saggi anche più radicali sulle tematiche del femminismo, tematiche di sessualità, eccetera, eccetera, decisamente più interessanti, più illuminanti, questo non mi è piaciuto per niente. La più grande sorpresa? La più grande sorpresa, che tra l'altro vi anticipo già la domanda dopo, ovvero il nuovo autore preferito, Andres Neumann, che è un autore di racconti brevi, non solo in realtà, ma io l'ho affrontato attraverso due raccolte di racconti brevi, che sono Vite istantanee, che è tra l'altro la più grande sorpresa, e Le cose che non facciamo, di cui vi ho letto un racconto per la nuova rubrica Fuma Castoro. Vite istantanee è stato proprio uno shock, mi è stato inviato dalla casa editrice La Sur, che vi invito a controllare perché ha un catalogo veramente meritevole, e ne sono rimasto colpito. Io l'ho letto senza nessuna aspettativa perché non conoscevo l'autore, e sono entrato a capofitto nel suo modo perfetto di scrivere racconti brevi, così brevi, così concisi, e allo stesso tempo capaci di raccontare effettivamente il mondo, attraverso anche delle tematiche, diciamo, forti, raccontate con questa semplicità, e allo stesso tempo lasciando veramente tanto. Quindi secondo me è un autore da scoprire assolutamente, che non smetterò mai di consigliarvi. Diciamo la Crash, il personaggio Crash, in un certo senso, no? Brina, che è un gatto, però è proprio il personaggio che mi ha sconvolto l'esistenza, io l'ho adorata dall'inizio alla fine, è questa gatta, che è la protagonista di una graphic novel intitolata appunto Brina e la banda del sole felino, di Christian Cornia e Giorgio Salati, uscita per Toonway, una graphic novel che da gattaro mi ha conquistato immediatamente, una storia di crescita, una storia dell'importanza delle regole all'interno dei rapporti d'amore, familiari, con i propri cari, molto carina come storia, e la protagonista è dolcissima, io da gattaro piango. Mi ha ricordato tra l'altro a Engie, che è la gatta che avevo prima della Zuko, identica, e quindi io subito mi ha colpito al cuore quel libro e quel personaggio. Mentre il nuovo personaggio preferito, l'ho scoperto quest'anno, assolutamente la signora Tokwe, di Le ricette della signora Tokwe, un romanzo giapponese di Durian Tsukigawa, uscito per Einaudi, la signora Tokwe, questa vecchina carinissima, con quest'amore spropositato per la vita, nonostante appunto abbia subito tantissime ingiustizie, e lei comunque conserva questo amore per le banalità dell'esistenza, e il suo compito quasi inconsapevole è quello di trasmetterle agli altri, di innamorarsi delle cose che fanno parte della nostra quotidianità, con questa leggerezza, questa voglia proprio di amare. Quindi secondo me è il personaggio più bello incontrato finora tra le pagine di un libro quest'anno. Un libro che ti ha fatto piangere. Allora, un libro che mi ha fatto piangere è assolutamente Il lacci di Domenico Starnone, che tra l'altro è l'altro libro più bello letto quest'anno, veramente un capolavoro, contentissimo di averlo letto perché era una mia grande lacuna, un romanzo che ragiona tanto sui rapporti, che trovano la metafora perfetta nei lacci delle scarpe, i lacci che appunto sono i genitori che ti insegnano a lacciarti le stringhe, e quando c'è il rapporto tra genitori, in un certo senso che deflagra queste stringhe, lacciarsi le stringhe non viene insegnato correttamente, quindi il problema è che si cammina male. È un romanzo che attraverso questa metafora semplice, allo stesso tempo azzeccata e fortissima, racconta tanto sui rapporti umani e sulla comunicazione tra esseri umani. Anche di questo comunque vi ho fatto una recensione singola, quindi se siete curiosi andatela a vedere. Un libro che ti ha reso felice, un libro che ti ha reso felice è Mio fratello rincorri di dinosauri di Giacomo Mazzariol, che è il debutto di un autore bravissimo e giovanissimo, che tra l'altro ho intervistato. Il libro in sé racconta la sindrome di Down senza moralismi, senza buonismo, senza minimamente puntarla sul melodrammatico, anzi, la storia dell'amicizia tra due fratelli e la crescita. È un romanzo anche estremamente divertente, che io ho trovato bellissimo, commovente, ma allo stesso tempo mi ha reso proprio felice, perché felice sia di aver incontrato un autore così giovane, in grado di raccontare una storia così forte e con tanta bravura, e allo stesso tempo felicità proprio anche della storia, nel divertimento scaturito da questa storia, che è un divertimento che fa pensare e emoziona, quindi assolutamente. Il libro più bello che hai ricevuto o hai comprato? Dato che non voglio parlare ancora volta di Monster, parlerò di Maria Spettamari di Madeleine Burdux, un'autrice bravissima belga, finora abbastanza ignota, e direi che è stata importante, cioè frequentava il circolo degli esistenzialisti francesi, era la migliore amica di Simone de Beauvoir, ha scritto dei romanzi meravigliosi, tra cui appunto questo Maria Spettamari, che è stato recuperato da Delphi quest'anno, e che reputo un altro romanzo straordinario, sicuramente nella top three dell'anno, assieme a Lacci e Monster. Anche di questo l'ho fatto una recensione, comunque un romanzo estremamente avanti per i tempi, dalla forte componente femminista, sul desiderio, sulla traboccante essenza del desiderio, e sulle conseguenze psicologiche dell'innamoramento lampo, che in un certo senso porta la protagonista a scoprire se stessa, e a capire l'essenza dell'amore. Quando si ama davvero, il romanzo cerca di porre delle risposte a queste domande. Quali libri vuoi leggere entro la fine dell'anno? Troppi, ne nomino solo due, che sono Il quaderno canguro di Abe Kobo, che ve l'ho spiegato già in diversi video, comunque questo romanzo folle di questo autore giapponese che amo, La Follia, è un autore giapponese che potremmo un po' paragonare a Kafka, per atmosfere, è un libro assurdo che racconta la metamorfosi vera e propria di quest'uomo, le cui gambe vengono sostituite da radici di daikon, che è questa radice giapponese, vegetale, vabbè, già la storia è assurda, e che per guarire deve affrontare questo viaggio in un inferno, una sorta di parodia dell'inferno buddista, assurdo, fuori di testa, e l'altro invece è Città sola di Olivia Leing, che è un mix ibrido saggio-romanzo sul tema della solitudine all'interno delle megalopoli, quindi il tema dell'essere soli in mezzo alla gente, che io trovo sempre un tema estremamente interessante. L'ultima domanda spetta invece ai migliori membri della community dei libri, quindi booktuber migliori, qua nomino assolutamente Gaetano Pagano, che saluto, un ragazzo bravissimo, che ha un canale di booktube, che meriterebbe più seguito, perché fa delle letture bellissime, lui è super preparato, quindi ve lo consiglio, e l'altro invece è Buzz Spears, per chi invece segue i booktuber stranieri, anche lui un ragazzo simpaticissimo che adoro la follia, finalmente è tornato dopo anni, mesi, che non faceva nulla, non faceva più video, è tornato, è sempre un piacere vedere i suoi video, perché fa delle letture belle, e ha questo umorismo un po' bici, che a me piace tantissimo. E quindi niente, questo è il mio bilancio dell'anno, fatemi sapere voi, attraverso le vostre risposte, io vi mando un bacione, e vi aspetto al prossimo video, sempre e comunque, ciao ciao, yeah!